Presentato il nuovo piano aglienazione del Comune di Cremona che viene periodicamente aggiornato sulla base delle possibili manifestazioni di interesse. Si tratta innanzitutto di aree servizi, nello specifico l'area delle serre comunali che l'amministrazione non utilizzerà più direttamente. Questo comparto ha una destinazione servizi, vediamo quale può essere la risposta del mercato. E così per quanto riguarda un parcheggio in via Sesto, anche in questo caso valuteremo quelle che possono essere le opportunità legate a soggetti privati. Poi accanto a queste ci sono delle aree minori e ovviamente c'è la partita dello stadio che abbiamo inserito all'interno del piano. Come conseguenza una manifestazione di interesse che è pervenuta al Comune di Cremona. Accanto a questo anche la cittadella dello sport sulla quale ora c'è un diritto di superficie. Verifichiamo appunto il passaggio a un diritto reale di godimento diverso che è il diritto di proprietà. Ovviamente il piano delle nazioni è un primo passaggio, il passaggio successivo sono i bandi pubblici rispetto a queste aree nel momento in cui vengono formalizzate le manifestazioni di interesse. L'obiettivo del piano è doppio, cioè quello di valorizzare edifici che il Comune non ritiene più strategici per un suo intervento diretto e acquisire risorse per la manutenzione. C'è tutto il tema manutentivo che è altrettanto importante perché poi riguarda la quotidianità di una città.